Si delinea il processo di integrazione tra i due aeroporti campani, il Costa d'Amalfi di Salerno e Capodichino di Napoli, avviato lo scorso mese di luglio. Entro giugno 2018 ci sarà la fusione tra aeroporto di Salerno S.P.A. e la GESAC, con i due scali entrambi sotto la livrea GESAC, che nella nuova società unica avrà ovviamente la maggioranza azionaria. L'aeroporto di Capodichino e il Costa d'Amalfi si divideranno il traffico passeggeri sulla base di uno specifico decreto. Nelle previsioni della GESAC lo scalo salernitano potrebbe arrivare ad un bacino di circa 3,5 milioni di persone entro il 2022. Secondo alcune indiscrezioni sarebbero molte le compagnie potenzialmente interessate ad operare sul territorio del Costa d'Amalfi, dalla Luxair alla Mistralair, passando per Aer Lingus, Condor e Finair, tutti i vettori che almeno inizialmente opererebbero a Salerno attraverso una politica di incentivi e che non prevederebbe solo collegamenti nazionali come inizialmente si era ipotizzato, ma anche voli con alcune località europee. La pianificazione della gestione del traffico dipenderà ovviamente da una precisa condizione, un generico miglioramento infrastrutturale, sia interno all'aeroporto che esterno al Costa d'Amalfi e che si traduce non solo nei 40 milioni di euro per il progetto della pista previsti nel decreto Sblocca Italia, il cui termine di scadenza per la cantirabilità è fissato al 31 dicembre di quest'anno, ma anche in altri 80 milioni che dovranno essere destinati ad alcuni interventi strutturali interni alla zona aeroportuale, compresa la realizzazione della nuova aerostazione. Oltre che ad un piano di miglioramento dell'accessibilità dell'aeroporto di Salerno, tra cui rientra anche il prolungamento della metropolitana, sono stati definitivamente assegnati infatti 100 milioni cipe destinate al completamento della metropolitana leggera di Salerno, nel tratto compreso tra lo stadio Arechi, attuale capolinea orientale e l'aeroporto, con le ulteriori quattro fermate previste nel progetto, zona industriale, scavate case rosse, Ponte Cagnano e aeroporto Costa d'Amalfi. La firma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Del Rio, è arrivata martedì mattinata, una formalità tecnica dopo lo stanziamento da parte del Cipe e dei fondi necessari al progetto infrastrutturale dello scorso 22 dicembre.